. Anticipazioni Uomini e donne, Gemma e Giorgio sono tornati insieme? Il video. Uomini e donne Anticipazioni, Gemma e Giorgio di nuovo insieme? Ecco cosè successo. . Cancelletto Gemma e Giorgio sono tornati di nuovo insieme? Tra i due protagonisti del Trono Over che è stato il tanto atteso ritorno di fiamma che tutti si aspettano da tempo? E questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi spettatori del dating show di Maria De Filippi, dopo aver visto che anche oggi pomeriggio la dama torinese è tornata a parlare della sua relazione con il Cavaliere Toscano e in modo particolare di un regalo che ricevette proprio da Giorgio ai tempi della loro relazione sentimentale. . Ritorno di fiamma per la coppia Gemma-Giorgio di Uomini e donne? . Ma il vero colpo di scena di queste ore arriva non tanto dalle puntate di Cancelletto Uomini e donne in onda oggi e quelle registrate in queste settimane, bensì da unospitata comune che Gemma e Giorgio hanno registrato proprio oggi pomeriggio al Maurizio Costanzo Show. Questo giovedì 19 aprile andrà in onda in seconda serata su Canale 5 luna nuova puntata del talk show condotto da Costanzo e tra gli ospiti presenti in studio ci saranno proprio Gemma e Giorgio. . I due parteciperanno in coppia al programma di Canale 5 e ancora una volta avranno la possibilità di parlare e di ripercorrere le fasi salienti della loro relazione damore che fa ancora tanto soffrire la dama torinese e che al tempo stesso attira lattenzione di milioni e milioni di spettatori. . Ebbene possiamo svelarvi in esclusiva che durante la registrazione dellospitata di Gemma e Giorgio di oggi al Costanzo Show che è stato un colpo di scena clamoroso. Ad un certo punto della puntata, infatti, abbiamo visto che Gemma e Giorgio si sono concessi un passo a due sulle note del brano Noi Due nel mondo e nellanima cantata dai Po. . Il video di Gemma e Giorgio che ballano insieme. Inutile dire che il video del ballo di Gemma e Giorgio di oggi ha fatto subito il giro del web e ha riacceso la speranza dei telespettatori, i quali adesso sperano vivamente che tra di loro possa esserci stato il tanto atteso ritorno di fiamma. . Possibile che questo ballo fatto assieme dalla coppia sul palco della trasmissione di Maurizio Costanzo possa aver riacceso la passione tra i due? . I fan della coppia Gemma e Giorgio speriano ovviamente di sì, anche se al momento non sappiamo ancora cosa è stato detto sul palco della trasmissione che come vi dicevamo sarà trasmessa questo giovedì sera in seconda serata su Rai 1. . I due ex fidanzati potrebbero aver messo da parte le incomprensioni dellultimo periodo per tornare a viversi? Vi terremo aggiornati. . 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 Grazie a tutti